Una nuova immagine per rinnovare la tradizione di essere vicini al territorio e alla clientela. Con la benedizione del Vescovo di Gravina, Altamura e Acquaviva, Monsignor Giovanni Ricchiuti, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata apre ad Acquaviva delle Fonti una nuova finale in via Arcancapedes a due passi da Piazza Garibaldi nell'ottica di fornire un servizio ancora più innovativo. Vogliamo confermare la nostra presenza in una piazza in cui siamo presenti da oltre 20 anni e cogliendo l'opportunità che il mercato ci ha dato abbiamo realizzato una struttura ecosostenibile che permette il connubio in una gorà tra un punto di incontro molto ma molto professionale dove i nostri colleghi potranno fornire una consulenza ad hoc sulle esigenze della nostra clientela e contestualmente abbiamo degli applicativi innovativi, tecnologicamente avanzati che permettono di effettuare delle operazioni di cassa e di sportello che possono soddisfare tutte le esigenze della nostra clientela. Siamo presenti già da 20 anni sulla piazza di Acquaviva, abbiamo sentito forte il bisogno di evolvere la nostra presenza sul territorio anche da un punto di vista del layout. Da sempre noi serviamo, il nostro fulcro più importante sono le famiglie, le famiglie produttive e per una tradizione noi siamo una banca di credito popolare che nasce come una società cooperativa da sempre è il nostro obiettivo eletto. Ma le esigenze cambiano, l'importanza della filiale in passato era molto legata all'aspetto transazionale e adesso guardando gli ambienti sarà facile notare come l'aspetto transazionale è diventato secondario rispetto invece agli spazi deputati all'aspetto relazionale e noi sulla relazione che vogliamo costruire il nostro rapporto di fiducia con i clienti. Innovazione anche nella comunicazione. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata sta portando avanti un cambiamento a livello di comunicazione ormai da un paio di anni, lo fa in diversi modi, lo fa portando per esempio l'arte nelle dipendenze, lo fa innovando le dipendenze. Ed ecco qui in questo nuovo concept, in questo nuovo layout della Banca Popolare di Puglia e Basilicata che appunto una delle peculiarità è proprio quello di avere questo open space, questa grande piazza dove i clienti possono tranquillamente fare le loro operazioni di routine piuttosto che avere una consulenza di qualità.